Nasce all'ospedale di Modica un nuovo reparto Covid ad annunciarlo il sindaco Abate oggi in sopra al luogo predisposti 14 nuovi posti letto. Vittoria dichiarata zona rossa, la CGL chiede controlli nelle attività più sensibili, tutela del lavoro e richiama ad una grande responsabilità collettiva. Operazione Piedi di Porco, arrestati dai carabinieri, due ladri seriali responsabili di 29 furti a Ispica, Pozzalla e Modica derubavano sia attività commerciali ma anche in chiesa. Due giorni di commomerazione dei defunti trascorse l'insegna del buonsenso e della sicurezza sanitaria, a Modica oggi la disposizione della corona dall'oro all'ossario dei caduti. Benvenuti a Canale 74, apriamo il telegiornale con una notizia comunicata proprio questo pomeriggio dal sindaco di Modica, Ignazio Abate, che oggi si è arrecato in sopralluogo all'ospedale maggiore di Modica. Con grande soddisfazione ha annunciato la nascita di un nuovo reparto Covid con all'interno 14 posti letto. I dettagli nel servizio. Continua a salire, anche se in modo lieve, il numero dei positivi nel territorio di Modica. Rispetto a domenica sera c'è un aumento di 9 unità, 91 a fronte di 82, così come sale il numero di persone in quarantena. Domenica sera erano 249, mentre stamattina sono 254. A tal proposito, stamattina il sindaco di Modica, Ignazio Abate, si è arrecato sul posto per constatare di presenza la funzionalità degli interventi messi in campo. Con grande soddisfazione ho potuto vedere di persona la nascita di un nuovo reparto da 14 posti letto, allocati in quelli che erano i locali uffici direzione sanitaria. In questo modo non sono stati sottratti i posti letto ad altri reparti. Gli uffici hanno preso il posto degli ambulatori, che allora volta sono stati trasferiti nell'addecente edificio, che ospita già la medicina legale. In questo modo, chi va a sottoporsi a visita presso gli ambulatori non dovrà entrare nel corpo principale dell'ospedale, così da non creare affollamenti nei corridoi della struttura ospedaliera. Un'altra novità che il primo cittadino ha potuto verificare è rappresentata dall'assunzione di 5 nuovi medici, che lavoreranno per la gestione di questo nuovo reparto Covid. Con la nascita di questo nuovo reparto, dove sarà utilizzato anche il personale ne ho assunto, salgono a 24 i posti letto disponibili per il comprensorio modicano. Tali posti serviranno ad accogliere in modo più sicuro i pazienti Covid, che successivamente, in caso di complicazioni, verranno trasferiti all'ospedale Covid Papa Giovanni Paolo II. Voglio ringraziare ancora una volta tutto lo staff dell'ospedale Maggiore, con in testa il direttore sanitario Piero Bonomo, che hanno dato dimostrazione di grande professionalità e capacità organizzativa. In tutti questi mesi hanno lavorato in prospettiva di un peggioramento della situazione, che purtroppo è puntualmente arrivato. Ogni giorno danno dimostrazione del rigoroso rispetto delle regole interne, che hanno portato questa struttura ad essere la più sicura sia per i pazienti che per lo stesso personale che vi lavora. Ringrazio in nome della comunità, anche la direzione sanitaria provinciale, che sostiene le iniziative messe in campo dall'ospedale Maggiore, e che si sta sforzando di ottimizzare spazi e risorse per mettere a disposizione di tutti i cittadini quanti più servizi possibili. Se oggi possiamo creare un reparto funzionale in poco tempo, si deve anche alla progettazione e realizzazione del nuovo pronto soccorso, costruito grazie alla compartecipazione dell'amministrazione comunale e pensato anche in previsione di qualsiasi emergenza epidemiologica. Siamo di fronte a una situazione particolarmente critica nel nostro territorio a causa dell'espandersi dell'epidemia e delle sofferenze del sistema sanitario, qui come purtroppo in tutto il territorio nazionale. L'ordinanza del Presidente della Regione, dichiara Vittoria Zona Rossa, stabilendo criteri di chiusura e aperture di attività in relazione al loro grado di essenzialità. Occorre fin da subito che la Regione e gli altri organi predisposti diano chiare indicazioni in merito quali comportamenti bisogna adottare in relazione alle attività ammesse. E quanto scrive in una nota al Prefetto di Ragusa, alla Commissione straordinaria del Comune di Vittoria, all'aspe di Ragusa, il Segretario Generale della Cigella di Ragusa, Peppe Scifo. Nella nota si chiede chiarezza su che cosa si intende per studi professionali e stabilire chi fra questi è davvero essenziale e chi invece può sospendere l'attività, almeno che non si faccia ricorso esclusivamente allo smart working. Così come è indispensabile una verifica continua la nota sul livello attuale delle misure anticontagio contenute nei protocolli in vigore e nei documenti di valutazione dei rischi delle singole aziende, però in attività lavorativa ammessa. Come è noto, le attività essenziali nel territorio di Vittoria, a partire da quelle agricole e l'indotto, coinvolgono migliaia di persone che continueranno normalmente la propria attività, mantenendo alti i rischi di contagio nonostante la zona rossa fermi una buona parte della popolazione. Per questo è indispensabile attuare controlli nelle attività più sensibili, quali le grandi aziende dove si concentrano numerosi addetti, i magazzini di lavorazione, le prodotti ortofrutticoli, i vivari e il mercato ortofrutticolo in ogni sua articolazione operativa all'interno. Serve proteggere il lavoro, altrimenti nessuna zona rossa potrà mai arrestare la crescita quotidiana dei contagi. Serve, conclude Scifo, un altissimo senso di responsabilità, verso il quale siamo tutti chiamati, e altrettanta puntualità da parte di tutti gli enti preposti ai controlli per vigilare sulla corretta osservazione di tutte le norme operanti in ogni ambito. La salute e la vita dei cittadini dipende dal nostro impegno. Dopo la nuova stretta emanata dal Governo regionale sulla chiusura di Vittoria, dichiarata zona rossa, il Sindaco di Santa Croce Giovanni Barone, tramite un comunicato stampa, ha tenuto ad informare i cittadini sulle nuove disposizioni utili ad evitare l'aumento dei contagi da Covid. Alla luce di quanto dichiarato dal Governo regionale Vittoria e zona rossa, il Sindaco di Santa Croce Camerina Giovanni Barone ha commentato preoccupato per quanto sta accadendo sui numeri dei contagi. Stamattina ho dato disposizione alla comandante della Polizia Locale di Santa Croce di far rilevare la temperatura a tutti i commercianti e ambulanti che hanno il posteggio riservato al mercato del giovedì. Essendo che molti di loro provengono da Vittoria, ritengo sia necessario monitorare bene le condizioni dei commercianti che hanno diretto contatti con la propria clientela. Ogni box è un ambiente di lavoro dove si applicherà integralmente il Decreto 81 sulle norme dell'igiene e sul lavoro con le norme anti-Covid, con apposita lettera che sarà notificata domani mattina. La mia puntualizzazione è dovuta alla luce della notizia giunta ieri sera su Vittoria e zona rossa, che non impedisce alle persone di uscire dalla città i Parina per motivi di lavoro. Di conseguenza ho il dovere di monitorare tutti i luoghi sensibili con gente che proviene da Vittoria. Questo è il pensiero del primo cittadino per quanto riguarda il mercato orionale del giovedì e il mercato ortofrutticolo, anche se le preoccupazioni del sindaco riguardano anche altri aspetti legati all'uso della mascherina e gli assembramenti. Dopo il nuovo DPCM, Barone valuterà anche di chiudere luoghi pubblici all'esterno al fine di reprimere questi due aspetti, l'uso scorretto della mascherina e gli assembramenti, che epidemiologicamente hanno più rilevanza ai fini del contagio da Covid. E ora la cronaca con la conferenza stampa indetta oggi dai Carabinieri di Modica in merito ai risultati dell'operazione denominata Piede di Porco, terminata con due arresti per reati di furto e tentato furto ad Ispica ai danni di commercianti, edifici pubblici e luoghi di culto. Qualche minuto per ricordare il giornalista scomparso, Gianni Molè, e poi il capitano della Compagnia dei Carabinieri di Modica, Francesco Ferrante, è passato ad elencare i risultati dell'operazione denominata Piede di Porco, che ha portato all'arresto di due persone. In carcere sono terminati due giovani di Ispica per i reati di furto e tentato furto aggravato in concorso ai danni di esercizi commerciali, edifici pubblici e luoghi di culto. L'attività investigativa aveva preso le mosse da numerose denunce di furto, sporte da esercenti, cittadini e dal sindaco di Ispica, per circa 30 episodi furtivi avvenuti tra Ispica, Pozzallo e Modica, tra il mese di marzo e il mese di luglio. La coppia di giovani già ben note carabinieri aveva messo a segno una costante attività furtiva nelle notti del primo lockdown di primavera. Infatti, pensando di girare indisturbati, dato il blocco generalizzato dalla circolazione, avevano iniziato a svaliggiare numerosi esercizi commerciali ad Ispica. I due ladri erano entrati all'interno del comune, sottraendo alcune monete contenute nelle macchinette distributrici ed anche un orologio. Avevano colpite agenzie assicurative, patronati fiscali di sindacati, pizzerie, paninerie ed erano giunti a sottrare persino il denaro contenuto nell'offertoria nella chiesa dell'annunziata di Ispica. Il modus operandi di tutti gli episodi era sempre stato il medesimo, ovvero sfondare una serratura di una porta o di un fisso con un piede di porco. Da qui anche il nome dell'operazione. Cercare denaro anche di piccolo taglio contenuto nei cassetti o nei registratori di cassa e portare via anche bottiglie di alcolici o qualunque cosa si potesse ritenere utile. Furti che avevano generato grande preoccupazione nella popolazione, tra i commercianti e proseguiti anche a luglio estesi a Pozzallo e Modica, dove sono state visitate diverse attività commerciali. La terribile notte di furti e gli esercizi commerciali di Modica fu immediatamente posta all'attenzione dell'opinione pubblica, in quanto una raffica di furti di questo calibro non si era mai verificata prima tra le vie della movida modicana, colpendo una pizzeria e una pasticceria molto nota ai modicani e ai turisti. Inoltre, a fine luglio, avevano nuovamente preso di mira, con spregiudicatezza, un ulteriore edificio di culta d'Ispica, la chiesa dedicata alla Madonna delle Grazie. Il lavoro dell'arma dei carabinieri è partito dall'analisi accurata di tutti i sistemi di videosorveglianza, impreziosita dell'accurata raccolta delle denunce, delle testimonianze delle persone offese che si erano rivolte a confiducia agli investigatori. Sono stati scoperti 29 furti ad attività commerciali, esercizi pubblici, sedi di sindacati, studi professionali e financo a due edifici di culto. Episodi molto gravi, episodi che hanno colpito nella fase del primo lockdown di primavera, nel momento in cui, peraltro, allo sblocco delle attività commerciali, i commercianti facevano con grande fatica il tentativo di ripartire nel racimolare un pochino di incassi e questi due soggetti, peraltro con numerosi precedenti anche specifici, hanno colpito ed hanno anche arrecato diversi danni nello svaliggiare tutte queste 29 attività commerciali. Un episodio importante, un'attività investigativa delle stazioni dei carabinieri che hanno mostrato vicinanza alla popolazione e una raccolta certosina di elementi ed indizi a carico di questi soggetti. In totale ben 29 furti, 16 ad Ispica, 10 a Pozzallo e 4 a Modica. In manette sono finiti Brian Bernuccio, di 22 anni, e Francesco Peligra, di 24 anni, e gli stessi sono stati condotti nel carcere di Ragusa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ma a ricordare il noto giornalista Gianni Molè, deceduto per Covid dello scorso sabato, anche decine e decine di colleghi e amici. Ieri la salma attesa al cimitero di Vittoria è stata sequestrata sotto esplicita richiesta della famiglia che ha esporto denuncia in procura chiedendo chiarimenti sulle cause della sua morte. Sentiamo. Vogliono vederci chiaro i parenti e per questo hanno presentato un esposto in prefettura. Le figlie del noto giornalista Gianni Molè, venuto a mancare sabato mattina al Guzzardi di Vittoria per coronavirus, pretendono chiarezza e per questo desiderano avere conferma che tutte le prassi sanitarie siano state rispettate. Ieri la salma che dall'ospedale doveva essere trasferita al cimitero è stata invece sequestrata dagli uomini della polizia giudiziaria, piombati sul posto per il sequestro in attesa di accertamenti. Oggi i primi interrogatori, mentre la famiglia continua a chiedere l'autopsia alla magistratura. Secondo quanto riportato in un esposto in procura, Molè pare sia stato intubato, non in modo del tutto corretto. Pertanto la macchina artificiale non lo avrebbe aiutato nella respirazione. Tutto questo però resta ancora al vaglio degli inquirenti. Gianni Molè è morto sabato mattina all'età di 61 anni all'ospedale Guzzardi di Vittoria, sembra per insufficienza respiratoria causata dal Covid-19. Una perdita enorme per la comunità ragusana, per il mondo del giornalismo e dei tanti amici e colleghi, tanto dura e inaspettata d'aver monopolizzato negli ultimi due giorni social e pagine di giornali. Decine e decine i commenti di condoglianza e le frasi in suo ricordo. Una sofferenza enorme che Gianni se ne sia andato così all'improvviso, senza neanche la benedizione del prete. Ma Don Signor Mario Cascone, collega giornalista, oltre che sacerdote, ha indetto per questo pomeriggio alle 18 una santa messa nella parrocchia del Sacro Cuore per onorare la sua memoria. Ma la lista degli attestati di cordoglio è ben più lunga. Giornalisti soprattutto, l'Ordine, la sostampa regionale e provinciale, tutti scrivono di Gianni Molè come giornalista di razza, maestro generoso per tutti i colleghi Bley della sua scuola in cui insegnava ad essere voci libere. Professionista serio e appassionato, uno dei pilastri del sindacato e dell'informazione siciliana. A tutte queste infinite condoglianze si aggiungono quelle della redazione, del gruppo editoriale di Canale 74 e dei tanti amici che a Gianni lo conoscevano e stimavano. Ma a far discutere in queste ore anche quanto di grave si è visto ieri al porto turistico di Marina di Ragusa, giovani assembrati e diverse attività commerciali aperte oltre l'orario. Ad denunciare tutto lo stesso sindaco Cassì che promette controlli ancora più serrati e tolleranza è zero per chi non rispetta l'ultimo DPCM. Da queste foto circolate nelle scorse ore sui social sembra una domenica qualunque. Nessun DPCM, nessuna restrizione, nessuna paura del contagio. Gente assembrata come nulla fosse, come se il virus non esistesse o perlomeno non a Marina di Ragusa, dove tali foto sono state scattate proprio ieri pomeriggio. E mentre un comune bleo viene dichiarato zona rossa a pochi chilometri, l'esatto contrario. Gente che approfittando di una domenica di sole esce e si incontra davanti ai locali, molti dei quali rimasti aperti anche fin dopo le 18 in barba a qualsiasi provvedimento anticontagio e imbeffa a chi invece ha deciso, a malincuore, di abbassare le proprie saracinesche. Fatti che preoccupano perché il rischio contagi è per tutti, per chi crea assembramenti e per chi poi si ritrova gomito a gomito con persone imprudenti che mettono in serio pericolo la vita dei più anziani. Immagini terminate sulla scrivania del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, che non ha potuto far altro che condannare duramente tali atteggiamenti di menefreghismo da parte dei cittadini e alcuni commercianti. Si promettono controlli serrati e tolleranza zero, ma quello che si capisce e che preoccupa è che tutto questo non può bastare senza un'opera di sensibilizzazione che a quanto pare ancora manca. Lo stesso primo cittadino sulla propria pagina Facebook ha scritto Questa è la situazione al porto turistico. È evidente che in molti non hanno ancora compreso la gravità del momento. La Polizia Municipale si è arrecata sul posto, coadiuvata dalla Polizia di Stato per le opportune verifiche nei confronti di locali e fruitori. È stata raccolta esaustiva documentazione, anche fotografica, che potrà portare a sanzioni e a chiusure. Inaccettabile che c'è chi continui in perterrito a mettere a repentaglio se stessi e gli altri. Non faremo sconti a nessuno ed agiremo con severità dettata dalle circostanze. Al di là delle multe, ciò che ci si ostina a non capire è che costoro potrebbero rimpiangere duramente questo menefreghismo tra qualche giorno. E mentre tutto questo accade, paradosso dei paradossi, nella stessa giornata di commemorazione dei defunti si applicano regole rigidissime per evitare assembramenti, ingressi scaglionati, limiti d'orario, sanificanti e mascherine. Poi, quando dal privato si passa al pubblico, ecco l'altra faccia della medaglia che mostra una situazione certamente poco rassicurante. E sempre parlando di sicurezza sanitaria, a chiedere un confronto tra il direttore dell'ASPE, l'Amministrazione Comunale, il presidente del Consiglio e i capigruppo è il consigliere Mommo Carpentieri che parla di incontro urgente al fine di monitorare e informare la città in merito all'attuale situazione sanitaria che passa anche dall'ospedale maggiore di Modica. Visto l'aumentare dei contagi in provincia di Ragusa e la repentina riorganizzazione di posti letto, reparti ospedalieri, nonché medici e infermieri, sarebbe necessario, così come è registrato recentemente anche Ragusa, un confronto anche a Modica che abbia come tema centrale quello della sanità e della situazione all'ospedale maggiore. E' quanto sollecita il consigliere comunale Mommo Carpentieri che invita il direttore generale dell'ASPE 7 Angelo Alicua a un confronto tra l'amministrazione e i capigruppo a Palazzo San Domenico. Ci risulta, continua Carpentieri, che la difficile situazione sanitaria e la carenza di posti letto in tutta la provincia non può essere un problema solo del nostro comune della città capoluogo. Attualmente il maggiore di Modica dispone anch'esso di un'area grigia con diversi pazienti già al suo interno. Sarebbe adesso opportuno capire, insieme al direttore generale Angelo Alicua, a quali criticità andrebbero incontro i modicani qualora malaguratamente dovessero aver necessità di urgenti cure mediche. Sia il sindaco in qualità di massima autorità sanitaria cittadina sia il capogruppo in consiglio comunale hanno il dovere di sapere e quindi di organizzare al meglio ogni tipo di emergenza sia per malati covid sia per chi necessita di normali cure mediche o assistenza in pronto soccorso. Si tratta di confronti utili, continui a Carpentieri che andrebbero rinnovati costantemente per monitorare al meglio la situazione e quindi informare la comunità. Sarebbe costruttivo superare le contrapposizioni strutturali sull'argomento tralasciando la politica e i rapporti interni per l'unico bene della città e dei cittadini. I stessi sindaci dovrebbero essere coinvolti in un coordinamento unitario al fine di avere un confronto serrato e costruttivo per meglio calibrare le singole iniziative. Per questi motivi, conclude Carpentieri, sarebbe auspicabile un confronto immediato tra l'amministrazione, il presidente del Consiglio, i capogruppo e i vertici dell'azienda sanitaria provinciale. Nessun assembramento nei tre cimiteri ragusani, massima compostezza da parte dei cittadini che hanno rispettato tutte le distanze di sicurezza. Stamattina il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, ha deposto una corona dall'oro all'ossaio comune rendendo omaggio ai caduti in guerra e alle vittime dell'alluvione. Mascherina e grande compostezza è il quadro di un primo novembre mai visto prima, contrastegnato dalle misure anti-covid che ha visto la gente rispettosa di regole che possono salvare prima di tutto se stessi e poi gli altri. Un primo novembre che si spera possa essere il primo e l'ultimo con simili restrizioni. Una domenica soleggiata su tutto il territorio ebleo, ma nonostante questo nessun pienone all'interno del cimitero. Stamattina il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, ha deposto una corona dall'oro all'ossaio comune rendendo omaggio ai caduti in guerra e alle vittime dell'alluvione e il vicario foranio della città, Frantonello Abbate, ha detto una preghiera e dispensato la benedizione al luogo sacro in assenza di celebrazione eucaristica. Oggi è una giornata particolare, la commemorazione dei defunti, un anno particolare come quello che stiamo vivendo legato all'epidemia del covid. Sappiamo quanto sia toccante questo momento per ogni singolo cittadino della nostra città far visita ai propri cari al cimitero. Penso oggi, per quest'anno anche per fortuna, perché se riuscite a poter visitare, poter venire al cimitero e poter visitare i propri cari. Speriamo veramente bene che questa epidemia passi presto e che si possa tornare alla normalità e anche questa cerimonia che quest'anno è in forma ridotta, ma l'abbiamo voluto fare lo stesso proprio per dare onore ai nostri concittadini che sono venuti a mancare in tutti questi anni, ai nostri parenti che sono qua al cimitero, ma anche è un momento di preghiera, anche se in forma ristretta con il vicario forano per quanto riguarda la benedizione di tutti i defunti. Quindi questo è veramente un anno particolare. Voglio fare coraggio a tutti, speriamo che passi presto e che dobbiamo stare tutti uniti e sicuramente riusciremo a superare anche questo momento di grande difficoltà. Come ha fatto sempre la comunità modicana, in questi momenti, nei momenti di difficoltà, sempre si è rialzata e è partita sempre più veloce di prima. Quindi questo è quello, l'augurio che voglio fare nella giornata un po' particolare che è quella della commemorazione dei defunti. Vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo il Tg delle 14 domani sempre su Canale 74. Grazie.